Attento qui il difensore che allontana, occhio al contraviene qui E il pallone finisce in gol! Un tocco elegante e preciso che trova la redde Beh sicuramente ha preferito la precisione e la potenza La palla ha concluso lentamente la sua corsa in fondo alla porta Può capitare una giornata storta e ovviamente è quello che è successo oggi al portiere